bentornati sul mio canale ragazzi e siete all'interno del mio laboratorio oggi voglio rispondere a una domanda che è molto importante per coloro che hanno la passione del fotovoltaico posso costruirmi una batteria la risposta è sì ma ci sono tante difficoltà forse troppe e le andiamo a vedere insieme innanzitutto dobbiamo avere degli stampi questo è uno stampo che mi sono fatto costruire in acciaio dove vediamo lo stampo viene chiuso qui viene colato il piombo dopo di che quando il piombo si è raffreddato si apre e abbiamo una lastra di piombo questa lastra è di 6 mm perché una lastra di 6 mm lo vediamo nei dettagli di questo video questo è un altro stampo più grande del precedente vedete il disegno è quello esattamente di una cella cioè un rettangolo con l'attacco per comporre poi la batteria anche questo stampo non è così rapido in quanto ha dei punti di riferimento dove lo stampo viene chiuso in questo modo qui ci sono i fori di entrata e di sfogo dell'aria quando c'è la colata il piombo si raffredda lo stampo viene aperto per produrre ancora una volta questa lastra di piombo ora vi ho detto all'inizio perché 6 mm 6 mm perché coloro che sono appassionati di costruzione di batteria vogliono che duri una delle domande che troviamo spesso sui siti specializzati è proprio questa ma quanto può durare una batteria 10 anni 5 3 spesso rispetto alle indicazioni perfette delle case produttrici noi scopriamo che la batteria dura invece un anno 2 3 5 massimo ecco che allora capiamo il perché una batteria dura poco perché sbagliamo qualcosa nella manutenzione la facciamo solfatare non la manteniamo sempre carica e in quelle batterie al piombo acido hanno bisogno di una carica costante ai massimi livelli e poi un altro fattore proprio lo spessore oggi le batterie vengono costruite per venderne altre e quindi sono fatte per durare un tempo prestabilito l'aspetto più importante delle batterie oggi è la compattazione la riduzione della quantità di piombo e questo ha un enorme influenza sulla durata ecco perché in questo progetto con piastre da 6 mm la durata di questa batteria di questo prototipo era intorno ai 50 anni è un'enormità ma è così solo che il processo lavorativo per riuscire poi alla fine a formare una batteria e a formare le piastre a renderle idonee è talmente lungo e bisogna talmente lavorarci sopra per cui il prototipo è rimasto un prototipo però oggi voglio comunque per coloro che sono appassionati di fai da te di alto livello voglio comunque raccontarvi questa esperienza perché penso che nel vostro bagaglio culturale riferito al fotovoltaico sia molto molto interessante il primo aspetto da prendere in considerazione è il piombo cioè vi dovete procurare del piombo il piombo per poter realizzare una cella una batteria deve essere un piombo purissimo quindi dovete procedere alla raffinazione del piombo non pensate di prendere il piombo dalle batterie fonderlo perché fondereste solo i contorni della batteria ovvero le mandate principali in quanto gli ossidi non sono facilmente fondibili bisogna lavorare con altissime temperature con arco voltaico con il carbone e quindi non è una cosa facile già questo primo aspetto procurarsi il piombo fondere il piombo attraverso batterie usate non è una cosa facile io l'ho fatto chiaramente in locali appositamente studiati per questo quindi in laboratori dove c'è la possibilità di realizzarlo perché i gas prodotti ovvero i vapori prodotti dal piombo sono molto nocivi quindi fate attenzione a questi aspetti e cosa ho procurato tutto il piombo che mi serviva per costruire questa batteria questi sono circa due chili e mezzo ognuno e ne ho procurati veramente tanti e questi sono veramente pesanti però come potete ben vedere poi sono stati raffinati fino a diventare piombo puro in questo modo questo piombo mi serviva per costruire una batteria ora questo prototipo questa scelta di fare questa batteria era puramente scientifico perché una convenienza in termini di tempi di lavorazione in termini di materiali lavorazione degli stessi è veramente una cosa ardora ma come ben sapete appassionati di fotovoltaico si inoltrano anche in queste avventure proprio perché scientificamente ne vale la pena ne valza la pena ora il piombo deve essere raffinato quindi deve essere piombo 999 e a questo punto vi formate dei vingotti ho usato un sifone di lavandino dove il piombo è stato fuso all'interno di acciaio inox e ho prodotto tutti questi vingotti perché la batteria è così pesante perché per realizzare delle piastre da 6 mm serviva questa quantità di piombo la batteria finale sarebbe risultata di 100 ampere e poco ma sarebbe durata 50 60 anni quindi il sogno di una batteria indistruttibile alla quale si potevano attaccare qualsiasi carico perché queste piastre non si storteranno mai i 6 mm di piombo sono è impossibile modificarle mentre le batterie in commercio hanno piastre molto sottili parliamo anche di un millimetro addirittura nelle nuove tecnologie hanno le piastre bubble ovvero sono formate da tantissime porosità all'interno di una piastra sottilissima ora aumenta l'efficienza in questo tipo di batteria ma la durata decade precipitosamente ecco perché questa batteria con piastre da 6 mm avrebbe avuto una durata enorme parte da un progetto di plante uno scienziato francese e quindi sono costruite in piombo solido a questo punto la lavorazione che si fa attraverso le correnti e gli acidi quando la cella è formata con le piastre contrarie fa sì che una piastra si ossidi con l'ossido positivo e l'altra invece rimanga piombo diventi la negativa questo è il progetto la realizzazione richiede per la formazione della batteria giorni e giorni di alternanza di corrente cioè una volta che avete trovato il piombo l'avete fuso in lingotti dopodiché lo fondete dentro gli stampi e realizzate queste piastre le montate le dovete saldare non con lo stagno non con altro piombo ma dovete prendere uno strumento che le possa allineare tutte le positive tutte le negative e dentro lì andare a fondere il piombo con la certezza che si fonda che si unisca totalmente anche con la cella in quanto il piombo formando degli ossidi in maniera molto rapida andrebbe a creare un isolamento quindi a noi ci può sembrare che la piastra sia saldata ma in realtà non lo è se proviamo a fare delle leve vediamo che si staccano come se fossero state semplicemente incollate ma non saldate questo è un aspetto importante ed è una delle grandi difficoltà quando alla fine avete realizzato questa batteria viene immersa in acido solforico e bisogna dare una corrente bassissima per un certo periodo dopodiché viene invertita la polarità per un certo periodo dopo averla scaricata a questo punto il processo di carica scarica e inversione della polarità è quello che consente alla batteria di formare sulle piastre i relativi ossidi positivi e negativi vedrete il positivo si copre di una patina marrone inizialmente dopo di che questa diventa più spessa per accelerare il processo c'è chi usa anche acidi potenti la piastra viene corrosa dallo stesso e nelle porosità che si creano quando daremo la corrente quando invertiremo la polarità quando carichiamo e scarichiamo andremo a depositare più ossido perché in una batteria al piombo la componente fondamentale è la quantità di ossido che abbiamo quindi la superficie che qui vedete piana o leggermente sconnessa a motivo della della fusione il momento in cui comincia a creare dei fori dei canali dei passaggi ovvero può darsi che visivamente non la vediamo ma lei è piena di piccoli bucchi e porosità che diventano ovviamente la vera superficie piena di ossidi di ossido di piombo e quant'altro a questo punto quando abbiamo realizzato tutte le piastre la batteria ci sembra che funzioni possiamo procedere a posizionarla all'interno del recipiente questa era una batteria immensa da 280 ampere io cosa ho fatto ho tagliato il bordo quindi ho tolto il coperchio ho tolto tutte le piastre vecchie oramai esauste ho pulito il tutto ed è diventato esattamente il recipiente per tutte le nuove celle come vedete sono 246 6 per 2 volt questa la batteria da 12 volt ovviamente la realizzazione degli stampi e quindi il prodotto finito tiene conto anche di dove sarà posizionata e queste erano esattamente piastre per essere posizionate all'interno di queste celle quindi avremmo avuto le celle positivo negativo positivo negativo la prima dei primi due volt 468 10 12 ed era un progetto bello ripeto per la durata di queste piastre che è enorme per il fatto che non si sarebbero mai rovinate per il fatto che ce le saremmo costruite ma poi durante il progetto durante le realizzazioni siamo riusciti a ottenere buoni risultati ma alla fine abbiamo abbandonato perché il mercato del litio in italia oramai da qualche anno prese potere oggi ancora di più e conquistò totalmente il mercato fotovoltaio fare un piccolo riassunto per coloro che sono appassionati anche di questo tipo di fai da te molto importante molto tecnico bisogna trovare batterie vecchie esauste rovinate bisogna togliere tutto il piombo che c'è in esse bisogna togliere gli ossidi e portarli negli appositi depositi dove viene riciclato il piombo può essere fuso e si fanno degli ingotti una volta fuso deve essere scaldato con una fiamma finché il piombo diventa blu e con una paletta bisogna togliere le scorie che lui continuamente va a formare quando non vediamo più le scorie abbiamo un piombo 999 quando abbiamo i lingotti in base al calcolo che facciamo per la batteria dobbiamo avere uno stampo quindi vedete che le difficoltà sono sempre tante quando abbiamo lo stampo lo andiamo a chiudere andiamo a fondere il piombo all'interno lasciando uno sfiato sullo stesso e a quel punto abbiamo formato una piastra avreste delle soddisfazioni enormi perché siete arrivati già a realizzare un qualcosa di solido qualcosa di tangibile qualcosa che per il fotovoltaico è piacevole e plant e nel 1859 inventò questo processo di formazione dove appunto bisogna dare delle cariche molto leggere dopodiché scaricare invertire la polarità caricare e continuare così per molto tempo perché dipende molto dallo spessore delle piastre e da tanti fattori di corrente ci sono già alcuni siti che ti descrivono bene questi tentativi questi progetti però è bello è bello sapere questo una volta formate le piastre la batteria inizia a funzionare cosa succede che voi preleverete della corrente e sarà poca perché il processo di cariche scarica dura tantissimo quindi andrete utilizzare la corrente per un assorbitore di di basso livello dopodiché pian piano man mano che caricate scaricate magari con un pannello fotovoltaico contenuto e ovviamente il suo regolatore di carica a un certo punto vedrete che la batteria comincia a prendere potere a quel punto voi avete un prodotto che pesa 60 70 chili e che potrete lasciare ai vostri figli oi vostri nipoti il fotovoltaico è anche questo e anche questa sperimentazione sono anche questi tentativi che danno cultura per coloro che realmente da questa spiegazione vogliono creare qualcosa vogliono fare un tentativo ci sono dei blog su internet specializzati basta mettere le parole chiave una è batteria plant e perché l'inventore di questo tipo di batteria l'altro inventore sempre francese qualche anno dopo si chiamava for e inventò un altro tipo di batteria che quella che usiamo oggi ovvero con le piastre forate dove all'interno vengono già depositati spalmati gli ossidi e quindi l'efficienza è istantanea una volta preparata la batteria questa subito è funzionale però la durata rispetto a quella di plant è enormemente più bassa perché queste polveri questi ossidi vanno a staccarsi ed è quello che succede nelle batterie normali che usiamo quotidianamente sia per i mezzi di locomozione che per il fotovoltaico dicevo le parole chiave sono batteria plant e auto costruzione di una batteria troverete in internet diversi blog anche di cari amici appassionati con i quali in passato abbiamo fatto argomentazioni veramente importanti e esperimenti veramente significativi oggi ci fermiamo qui spero vi sia interessato spero sia stata un'argomentazione culturale come al solito e questo è quello che si faceva 7 8 anni fa tentare di costruirsi la batteria per il proprio impianto fotovoltaico per farle durare di più per avere efficienza per dimostrare che si poteva fare qualcosa oggi ragazzi questa batteria se vi mettete a costruirla avete le indicazioni le trovate in internet ma con una batteria al litio grande così avreste la stessa energia iscrivetevi al canale